Da tal'uni era chiamato zoppo, da tal'altro era conosciuto come storto, un certo numero lo definiva semplicemente come diagonalizzato. Ritorna prepotentemente, un desiderio morale, la mia vita cerca, fughe in diagonale. Da quando l'ho conosciuto, la mia vita ha finito direzione. Ha sempre avuto certe intinazioni così artificializzate, magari non è uno, come dire, lineare, ma non merito di riservare la gente con un sguardo blipo. Sì, con lui mi servono sempre tra l'altro mio agio. C'è sempre il bisogno e ciò che farò fa sempre con attività semplice della rete. Sì, è proprio quel tipo di persona che si dice un intercattore. Un film che gli farà piegare da ridere. Un film che gli farà piegare per lo sforzo. Un film che piega il film. Un film che vi farà piegare. Dal trasversale romanzo di un verso di eco, un pendente luberbari in... L'uomo che camminava in diagonale.